buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv buona giornata a tutti oggi sabato 29 luglio 2023 chi si festeggia oggi bene abbiamo guardato il manacco del giorno e abbiamo trovato santa marta di betania eccola in questa iconografia è la sorella di lazzaro una delle compagne del maestro che poi lo seguì durante gli ultimi anni della sua vita fu presente al calvario e in seguito vide gesù risotto da israele dopo la morte di gesù emigrò in francia dove a marsiglia fondò una comunità di vergini le sue reliquie si venerano a tarascona sul rodano quindi è in europa questa è santa marta di betania ecco ci sono cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata i venti saranno al mattino moderati da sud ovest al pomeriggio moderati da nord est il mare è poco mosso e le temperature si sono notevolmente addolcite rispetto ai giorni scorsi le minime sono 23 gradi le massime sono 28 gradi insomma ancora una temperatura prettamente estiva e allora godiamoci un po d'estate andando in spiaggia nei bagni i sassi sotto marotta dove troviamo il nostro gianluca guidi buongiorno gianluca buongiorno buongiorno a tutti allora cielo sereno mare calmo oggi per questo fine settimana oggi si oggi è una stupenda giornata oggi come dicevamo ieri oggi è da bandiera bianca mare calmo stupendo la temperatura giusta oggi ci sarà parecchia gente oggi è un giorno di cambio per noi finiscono quelli di luglio iniziano quelli di agosto quindi ci sarà ci saranno facce nuove ci sarà un po di movimento ci sarà da fare e la giornata promette bene quindi siamo contenti oggi ci sono anche molti stagionali comunque che hanno affittato l'ombrellone le tutte le attrezzature per tutta la stagione in che percentuale in che percentuale possono essere rispetto coloro che magari l'affittano per una settimana un mese allora diciamo che ogni stabilimento c'ha diciamo anche in base dove è collocato delle percentuali che possono variare lavoro abbastanza forse con delle percentuali più alte dei miei colleghi con gli stagionali sono su un 80 85 per cento di stagionali a quindi sono quelli i tuoi clienti fedeli che ormai si sono ambientati nella tua concessione quindi di danno in anno rinnovano rinnovano l'ombrellone i lettini eccetera bene per quanto riguarda le attrezzature lettini e ombrelloni soltanto no ci sono anche altre cose immagino no sì vabbè oltre a proprio le attrezzature le sede sdraio le regista ma poi abbiamo il campo da vice il biliardino insomma c'è un po di tutto tutto quello che uno desidera avere in spiaggia insomma certo senti ci sono anche molte persone che vogliono fare magari una piccola escursione in mare con un pattino vanno ancora queste piccole avventure in mare sì sì i bambini non non resistono quando vedono il tempo bello così è una lotta continua con i genitori che sono un po resti a fare il giro col pattino perché perché comunque dà gusto quindi no ancora 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 appetibile un'altra cosa il tuo fondale è degradante verso il largo oppure ci sono subito l'acqua c'è subito l'acqua alta è un po come come era la sassogna una volta c'è subito l'acqua alta e quindi quasi non si tocca nei primi nei primi dieci metri ma poi dopo si rialza e fa tutte le secche come come torrette per intenderci però il primo pezzo è veramente alcune volte c'è una buca importante quest'anno più degli altri anni devo dire la verità e quindi questo costringe un po ad avere maggiore vigilanza rispetto a tutti no tutto il tuo personale che deve insomma vedere se non ci siano problemi siamo sempre molto attenzionati questo questo particolarità peculiarità della nostra spiaggia avvisiamo di continui clienti quelli nuovi di come è la morfologia del litorale qua da noi e siamo in due a vigilare sui bagnanti per una maggior tutela insomma allora gianluca noi possiamo salutarci dicendo sicurezza comfort è una bella vacanza al mare nella spiaggia e sassi sotto marotta grazie per la settimana che abbiamo trascorso insieme ti faccio tanti auguri anche per la tua attività per il mese di agosto grazie grazie mille è stato un piacere benissimo allora diamo un'occhiata ai giornali stamattina iniziando dal resto del carlino dove vediamo un episodio dequalificante dobbiamo dire di vandalismo sono stati deturpati ancora una volta i pannelli del sottopasso di viale cairoli una banda di ragazzi ha infierito sui pannelli rovinandoli sono i pannelli che all'inizio erano stati poi dipinti dei ragazzi dell'istituto d'arte poi erano stati di nuovo ristrutturati ebbene oggetto ancora una volta di episodi di vandalismo lido caldo dopo l'aggressione ecco i vandali danneggiata a calci e a pugni quindi anche con uno spregio molto molto violento uno dei pannelli decorativi del sottopasso di viale cairoli cresce la preoccupazione degli operatori ebbene questi ragazzi devono essersi accolti che devono essere accorti che la macchina che la videocamera che era stata installata non era collegata e quindi erano al sicuro perché poi ci hanno badato a infierire sui pannelli e quindi erano in sicurezza e beh questo è veramente un atto stupido che è stato commesso un atto che così tanto per fare delle bravate per vincere la noia costringe però l'amministrazione comunale a spendere i soldi di tutti i cittadini soldi che magari potevano essere impiegati per copere veramente utili questa volta devono essere impiegati per rimettere a posto questi pannelli montalbini assordante il silenzio del comune sui fatti di questi giorni ma in realtà io porrei l'attenzione più a coloro che sono interpreti di questi fatti sì poi c'è anche il comune che deve operare per cercare di elevare la qualità dell'educazione di tutti i ragazzi avere il servizio di sorveglianza per carità questo è un compito importante ma il compito più importante lo devono fare gli educatori le famiglie le scuole tutti coloro che possono influire sulla mentalità di ragazzi affinché questi episodi non si ripetano ma inutile fare la predica questa è la situazione e vedremo come saranno gli sviluppi ad ora a fondo pagina abbiamo invece la denuncia dei cittadini di Carrara per quanto riguarda lo scarso stato di manutenzione del rio Carrara del fosso che attraversa la frazione che è stato danneggiato dalle ultime piene ci sono verificati anche alcuni crolli da parte degli argini e quindi se dovessero piovere intensamente abbiamo visto anche sui giornali di ieri l'acqua potrebbe esondare mettere a rischio la sicurezza delle abitazioni che sono vicine appunto al fosso ecco perché Davide del Vecchio di Fratelli di Italia invita l'amministrazione comunale ma invita anche il consorzio di bonifica a intervenire per ripulire il fosso perché in questi giorni di gran caldo se poi all'improvviso dovesse scoppiare un temporale questo probabilmente sarebbe di forte intensità e potrebbe provocare danni si è visto che cosa è accaduto in Alt'Italia e Lombardia ma anche in Emilia Romagna con chicchi di grandine grossi come palle di tennis vediamo le altre notizie giriamo la pagina e parliamo di politica Maxi coalizione a sinistra è un ultimatum al partito democratico diciamo innanzitutto che le premesse di questa campagna elettorale che è stata attivata in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno il prossimo anno vedono la sinistra completamente spaccata abbiamo il PD e il partito di Incomune quello gestito da Samuele Mascherin da una parte con una coalizione ormai consolidata mentre dall'altra parte abbiamo tutto un piccolo ma non tanto piccolo frazionamento di forze politiche ebbene lunedì prossimo in Sassonia vediamo un attimo se dico bene che è in Sassonia c'è un incontro che viene organizzato da alcuni partiti politici vediamo chi sono sono il Movimento a 5 Stelle c'è Ribella ci sono i Verdi c'è il Bene Comune e ci sono i Socialisti alle 21 a Lido non è in Sassonia si tratta della tensostruttura del Lido nei pressi del Molo dell'Arzilla alle ore 21 di lunedì prossimo ebbene ci sarà appunto Ribella di Teudosio Aspici con una platea di due ex sindaci come Cesare Carnaroli e Francesco Baldarelli poi ci sarà Tiziano Busca per i socialisti Roberto Malini per i Verdi ci sarà ovviamente Bene Comune in questo articolo parla in modo esplicito Luciano Benini e poi ci saranno insomma anche altri simpatizzanti di questa coalizione che getta l'ultimatum al Partito Democratico o ci si accorda in determinati temi e quindi si fa un programma comune oppure la sinistra va alle prossime elezioni divisa e ovviamente in questo caso i giochi a favore della destra del centro-destra sono fatti e quindi c'è una specie di masochismo da parte del centro-sinistra ma lasciamo la politica alle sue divisioni e parliamo di una iniziativa che ormai è diventata una classica delle manifestazioni culturali fanesi culturali e diciamo così folcloristiche fanesi si tratta di In Gir per Fan che verrà organizzata il prossimo 10 agosto è stata presentata ieri nella sala della Concordia delle comune di Fano con tutto il suo apparato di enogastronomia ma anche di visite culturali perché la bellezza l'originalità di questa iniziativa è che mette insieme l'attrattiva del buon cibo con quella delle visite culturali c'è un itinerario nel centro storico di Fano punteggiato da tanti boxe dove verranno servite le specialità di tutto il territorio e poi ogni tanto c'è una visita culturale da fare al Museo Civico alla Pinacoteca oppure a San Francesco una sbirciatina a San Pietro in Valle a Santa Maria Nuova dove è tornata l'annunciazione del Perugino che è stata data in prestito per una mostra nella Galleria Nazionale dell'Umbria in occasione dei 500 anni della morte del Perugino quindi una iniziativa una ricorrenza significativa di questo grande pittore e poi tante specialità e quali sono queste specialità che fornirà il Giro per Fano quest'anno lo diciamo che innanzitutto che è stato organizzato dal Proloco che poi riunisce tantissime associazioni con la collaborazione dell'amministrazione comunale infatti ieri ne hanno parlato l'assessore al turismo Etienne Lucarelli e l'assessore della cultura Corrafattori ebbene le specialità del territorio sono il crostolo di Urbania la storica polenta di San Costanzo oppure il classico spiedino ecco qui l'articolo il classico spiedino di carne con patate fritte non mancherà poi il profumatissimo tartufo di Acqualagna che da quest'anno non sarà più abbinato alla tagliatella fatta a mano che era un po' più laboriosa e creava lunghe file agli stand però insomma ci sarà ugualmente un primo molto molto delizioso e poi ancora il gelato che verrà fornito da Castelvecchio da Castelvecchio e poi non ci saranno invece le pesche di Monte Labate perché la Proloco sembra che abbia avuto un problema la Proloco di Monte Labate però ci sarà un buonissimo formaggio servito con il miele da parte della Proloco di Fano nella Rocca Malatestiana e questa è veramente una novità ed ora un articolo di cronaca a centro pagina finisce nella scarpata ha salvato un ragazzino a soccorrerlo e sono stati i vigili del fuoco che si sono fatti largo tra la fitta vegetazione per poterlo raggiungere ebbene sono intervenuti nella notte tra giovedì e venerdì a Fano per soccorrerlo dato che la scarpata era impervia e lui da solo non riusciva a risalire sono uscito due ore e i ladri sono entrati qui è accaduto a terre roveresche in modo particolare nel centro di Orciano si tratta di Luciano Bergamini Luciano Bergamini è un noto geometra e imprenditore di 89 anni che dalla morte della moglie vive solo ebbene è uscito di casa soltanto due ore ed è rientrato guardate qui nella foto com'è la situazione della sua camera da letto vedete cassetti che sono stati aperti cose che sono state buttate all'aria tutta la stanza a suo quadro hanno rovistato ovunque ha detto Bergamini nei cassetti nelle mie scrivanie e soprattutto al primo piano dove c'è la camera da letto e il soggiorno hanno trovato tutto per terra ho trovato tutto per terra armadi cassettiere spalancate un autentico disastro ebbene hanno rubato alcune centinaia di euro e poi hanno rubato anche due blocchi di assegno però di assegni che però sono stati bloccati e quelli sono stati almeno salvati e quindi attenzione perché in questi giorni vediamo che i ladri si fanno più spesso vivi e quindi c'è veramente una banda che sta operando nel territorio abbiamo visto anche furti compiuti nei giorni scorsi risalire alla ribalta della cronaca sui giornali San Costanzo un food truck devastato dalle fiamme un grosso tir è accaduto poco dopo le 15 le cause dell'incendio forse sono attribuibili ad un malfunzionamento dell'impianto elettrico ecco qui la foto del camion che è stato letteralmente devastato dalle fiamme quindi reso completamente inutile a Urbino a Urbino c'è una zona industriale che sta veramente decollando più che una zona industriale diciamo la zona industriale che è quella di Caguerra decolla il nuovo piano industriale in cantiere al via vicino a Casinina è lì che la Green Power costruirà i capannoni e il sindaco con questo sito si avranno 250 posti di lavoro in più dunque un nuovo polo industriale urbinate di Caguerra è sempre più concreto sono partiti infatti i lavori per la realizzazione della nuova zona produttiva in futuro una delle maggiori per Urbino nella località vicino a Casinina ma all'interno del comune di Urbino la notizia era stata data diciamo la verità già da tempo poi era seguita la firma della convenzione urbanistica tra il comune di Urbino scusate la società Green Power che costruirà i capannoni per ampliare il proprio gruppo con sede a Lunano quindi un grosso un grosso gruppo industriale che costituirà un elemento aggiuntivo per così incrementare l'economia di Urbino e a fondo pagina a fondo pagina vediamo invece il successo dei ricercatori della università in questo caso vediamo i professori Luigia Rossi e Mauro Magnani Mauro Magnani lo conoscono bene i fanesi in quanto è stato colui che ha realizzato il corso di studi di biotecnologie nella sede decentrata dell'università di Urbino a Fano a Palazzo San Michele ebbene Eridell è un spin-off della università di Urbino ed è stata acquistata niente meno che dalla statunitense Quincy Therapeutics quotata in borsa dal Nasdaq è nata nel 2007 ed è una società che fu uno dei primi spin-off accademici italiani nell'area dei terapeutici questa è la sfera d'azione in cui opera si ricercano farmaci si fanno studi per verificare come la chimica può indurre può facilitare appunto la ricerca di sostanze che possono aiutare i medici nella cura di certe malattie il progetto in questo caso era stato uno spin-off dicevo dell'Ateneo Urbinate e soprattutto si sono fatti molto dei progressi per il trattamento della fibrosi cistica una malattia veramente grave che quando colpisce prostra intere famiglie dall'interno delle guerre alle aure universitarie restiamo sempre ad Urbino per dare un'occhiata a quanto si sta facendo in favore di due giovani africani due rifugiati saranno accolti nell'Ateneo favoriti da una serie di servizi che verranno loro offerti vengono dall'Uganda e dal sud Sudan dove ci sono situazioni precarie per quanto riguarda la pace in quel paese sempre molto molto turbolento e poi vediamo come c'è in questa pagina un articolo che riguarda Piobbico eccolo qua l'umano di corsa nel tempo fermo Andrea Rossi 27 anni di Piobbico appassionato dell'arte creativa dopo aver costruito il cavallo Tornado la Pantera Tenebra e l'Elefante Africa ha creato un'altra grande scultura e come sempre per realizzare le sue opere ha utilizzato metalli di recupero e vedete qui appunto l'immagine di questa scultura che devo dire è realmente impressionante ed ora diamo un'occhiata invece agli sviluppi della tragedia del dramma che si è verificato a Fossombrone il delitto di Fossombrone l'assassino arriva a mani giunte e il suo interrogatorio è un delirio lo vediamo qui l'assassino Andrea Marchionni 47enne che ha ucciso una splendida ragazza di cui qua vediamo come si sono celebrati i funerali l'ultimo saluto a Marina in chiesa le foto dei giorni più belli due famiglie distrutte dal dolore ebbene ieri c'è stato l'interrogatorio un lungo interrogatorio appunto di Andrea Marchionni nei confronti del giudice lui ha iniziato un racconto che è stata una specie di delirio insomma non si è arrivati né a capo né all'inizio di questo incontro in quanto quello che ha detto era tutto un insieme di espressioni confusionarie non si sono ancora capite le ragioni per cui questo uomo ha sparato appunto alla donna una deposizione di fronte alle domande del GIP che è stata Francesca Dorazio e del PM Simonetta Catani che non ha quindi risolto il mistero del movente del delitto e quindi rimane solo il dolore rimane il dolore il pianto per la distruzione di due famiglie due famiglie distrutte dal dolore all'ingresso appunto della chiesa il collage della vittima resterai per sempre con noi e vediamo qui le foto significative di questo ultimo addio che è stato dato a Marina c'era anche la sorella Milena il compagno Enrico e la madre Franca qui li vediamo in questa fotografia i parenti più prossimi appunto della vittima di questo delitto e siamo sulla pagina di Pesaro sulla pagina di Pesaro abbiamo i lavori a San Domenico il progetto dell'Archistar per farlo rinascere è un po' la sede del mercato pesarese ebbene il progetto è opera dell'Archistar Guido Canali di Parma l'appalto è stato assegnato ad un raggruppamento di imprese i lavori costeranno 6.128.463 euro un grande intervento per quanto riguarda il mercato pesarese a Fano invece abbiamo l'ultima seduta del Consiglio Comunale che si è svolto l'altra sera prima di andare in vacanza si è approvato il DUP e soprattutto il Movimento 5 Stelle ha elencato una serie di mancate approvazioni di piani che avrebbero dovuto sostenere la programmazione politica e amministrativa della Giunta che invece sono in ritardo e poi vediamo come il collettore di via Pisacane aumenti i costi ed è quel collettore che avrebbe dovuto evitare tutti gli allargamenti che si verificano in fondo nei pressi della stazione ferroviaria quando piove intensamente e qui l'acqua precipita dai piani alti della città e poi sulla gola del furlo scusate il tartufo il tartufo la fa da padrone due giorni per acquistare e assaggiare il tubero appreggiato nella bellezza e con il jazz e con il jazz perché proprio domani finisce il Fano Jets by the sea con il bellissimo concerto della gola del furlo e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7 e vi augura un buon weekend grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti